Dal Vangelo secondo Marco In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai Suoi discepoli, Passiamo all'altra riva, e congedata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano anche altre barche con Lui, ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare, Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano null'altro. Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? Questa è un'immagine efficace della Chiesa. Una barca che deve affrontare le tempeste e talvolta sembra sul punto di essere travolta. Quello che la salva non sono le qualità e il coraggio dei Suoi uomini, ma la fede che permette di camminare anche nel buio, immenso alle difficoltà. La fede ci dà la sicurezza della presenza di Gesù sempre accanto, dalla Sua mano che ci afferra per sostrarsi al pericolo. Tutti noi siamo su questa barca e qui ci sentiamo al sicuro, nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze. Siamo al sicuro soprattutto quando sappiamo metterci in ginocchio e adorare Gesù, l'unico Signore della nostra vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!